Abbiamo appena terminato la riunione del Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile, riunione che abbiamo convocato a seguito della dichiarazione dello Stato d'emergenza da parte del Consiglio dei Ministri per l'emergenza Corona Venus. Devo dire che nel corso della riunione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Presidenza del Ministro della Salute, è stata esaminata la situazione in atto del nostro Paese che è una situazione di assoluta tranquillità. Ma noi continueremo, come Protezione Civile Nazionale, io sono stato incaricato di assumere il ruolo di commissario delegato, a organizzare le attività di prevenzione nel nostro territorio e a fare in modo che non si possano poi registrare nel nostro territorio situazioni di particolare criticità. Pertanto la situazione è tale da non avere alcun tipo di allarmismo, ma continuare a fare una vita normale adottando quelle che sono le normali regole di prudenza.